Ha raggiunto il leader del PD Nicola Zingaretti che ringraziamo di questi minuti. Buongiorno segretario. Buongiorno a voi. Buongiorno Zingaretti. Allora, mi scuso per la domanda ma sono certo che ne capirà con pazienza il senso. Lei è un uomo politico che non ama le polemiche. Questa, per chi lo conosce, insomma, è noto. Tanto che ha imposto ai suoi la cura convento, cioè meglio una riflessione collettiva su temi e proposte del Partito Democratico. Secondo lei i 5 Stelle, Leo e Italia Viva, hanno bisogno della stessa cura o necessitano, diciamo, di una cura omenopatica o psichiatrica? Ogni forza politica decide quello che è bene per la sua forza politica. Io non è che non amo le polemiche. Gli italiani non amano le polemiche. Chi non arriva a fine mese o chi ha un'azienda e deve aumentare il prodotto, chi è artigiano o commerciante vede che gli incassi calano, chieda la politica delle soluzioni, non chieda la politica delle polemiche. E quindi noi siamo non per caso quella forza politica che punta di più alla necessità di fare per questa nostra comunità. e io spero che questo lo facciamo insieme come comunità, come alleanza e non da soli, perché è una cosa essere avversari e è una cosa essere alleati. E noi siamo alleati. Segretario Zingaretti, proprio questa mattina sul Corriere il capogruppo PD alla Camera, Bonaccini, dice che insomma vincerete, soprattutto in Emilia Romagna, ma se così non fosse, bisognerebbe, insomma, non si può far finta di niente, perché magari non cadrà il governo, però di certo non si può far finta di nulla. Lei è d'accordo? Ma sì, io sono convinto, vengo ora da una campagna elettorale sia in Calabria che in Emilia Romagna, sono stato fatto decine di iniziative, sono molto ottimista perché vedo che c'è una bella reazione delle persone per difendere quella terra e quelle terre, ma sono io il primo a dire che sono orgoglioso di un partito che dopo la drammatica sconfitta del 2018 è tornato in campo, combatte ovunque, dal nord al sud, è presente i simboli ovunque, è presente ed è il pilastro dell'alternativa alle destre. E sento anch'io la necessità, ma anche questo, di continuare in un grande rinnovamento. Io penso e dico sempre che non bisogna essere pigri. Due anni fa tutta l'Italia diceva che i democratici sono finiti perché l'alternanza è tra la Lega e 5 Stelle. Oggi è già cambiato tutto. Da una parte c'è una destra molto unita, e questo è l'elemento sul quale i nostri alleati, a mio giudizio, ragionano poco, e noi dobbiamo ricostruire un campo di forze, e questo campo di forze è oggettivo che il pilastro fondamentale, quello che dà garanzia di serietà, è il Partito Democratico. Quindi io dico avanti insieme, ma sicuramente noi andiamo avanti e lottiamo perché in quelle regioni ci siano dei buoni risultati. Segretario Zingaretti, poi torniamo alle Mine Romagna, torniamo alla Calabria e al dopo. Però oggi c'è un oggi bello grosso. 20 gennaio 2020, la giunta per le autorizzazioni a procedere voterà sul segretario della Lega Matteo Salvini. Lo scontro è stato fortissimo. Ieri Salvini ha detto i miei voteranno sì all'autorizzazione a procedere. Cosa vuole Salvini secondo Nicola Zingaretti? E poi ha fatto pace, virgolette, con il presidente del Senato Casellati? Guardi, Matteo Salvini sta usando ancora una volta un tema che riguarda la giustizia per motivi politici e personali. Lo ha fatto quando c'è stato il caso Diciotti, lo ha fatto quando è fuggito dal Parlamento, malgrado il presidente lo chiamava per chiedere semplicemente la sua opinione su Russiagate e sta compostruendo intorno a una vicenda che dovrebbe essere solo giudiziaria un battaggio politico perché pretende l'impunità. Noi su questi temi non giudichiamo con opinioni politiche perché pensiamo che gli avversari si giudicano e si sconfiggono sulla politica e non con la giustizia. Però pretendiamo che chi rappresenta i cittadini al Senato o alla Camera li giudichi leggendo le carte perché queste sono scelte che si prendono nel merito dei problemi e non con indirizzi politici dei partiti. Quindi quello che sta facendo Salvini è sempre lo stesso film. È garantista su se stesso e giustizialista quando un suo avversario si trova ad incontrare la giustizia. La presidente Casellati non è un problema di litigare, fare pace o non fare pace. Ha compiuto un atto che io credo sia sbagliato perché invece di garantire come dovrebbe fare il presidente una terzietà soprattutto di fronte a un contenzioso, a un tema di divergenze si è schierata a favore della sua parte politica e questo rimane un vulnus. Non è un problema di simpatia e antipatia. È un problema di una funzione istituzionale molto per l'altro importante che a nostro giudizio non è stata rispettata. Senta Zingaretti, al netto di una campagna mediatica che dura ormai da quasi dieci anni contro i partiti che io non condivido perché penso che abbia contribuito alla geografia politica attuale, le chiedo le sardine. Insomma, sono un accostro del PD, torneranno nella casa naturale che sembra essere proprio il Partito Democratico ma soprattutto qualora si perdesse in Emilia Romagna, oggi Del Rio sul Corriere della Sera dice ci saranno forti problemi, cadrebbe il governo? No, il governo no. L'oggetto, anche se purtroppo la Lega vuole eliminare questo tema, l'oggetto del voto in Emilia Romagna è chi può fare meglio il presidente di quella terra e chi lo può fare meglio è Stefano Bonaccini. È talmente vero che lo stesso Salvini evita di promuovere la loro candidata perché è oggettivamente più fragile e questo lo sanno anche loro. Le sardine io le considero un movimento di persone, di persone che per fortuna in una democrazia si mobilitano per difendere dei valori costituzionali e democratici che sentono aggrediti dalla cultura dell'odio, del disprezzo delle regole, dell'aggressione all'altro, al diverso e anche a un'idea appunto per affrontare i problemi che alla fine punta sempre a criticare le istituzioni. Quindi io penso che sia un patrimonio di tutti, cioè di coloro che credono in alcuni valori democratici e penso di poter dire, forse mi illuto, che tutti quando vedono una piazza di persone che canta le canzoni della Resistenza o canta Fratelli d'Italia per difendere la democrazia e la Costituzione Repubblicana, beh, dovrebbe essere contenta invece di vedere piazze vuote o peggio, occupate da slogan violenti che distruggono la solidarietà tra le persone. Questo movimento è una grande novità positiva, secondo me, ma non è un movimento del PD, è un movimento libero, autonomo, indipendente e poi se riconoscono un atteggiamento diverso che ha il nostro partito, io sono contento, non bisogna neanche demonizzare questo altro aspetto. Ecco, le chiedevo proprio questo al segretario Zingaretti, oggettivamente, fra 6 e 6, lei pensa che più possano avvantaggiarvi o svantaggiarvi le sardine dal punto di vista del voto? Ma non avvantaggiano il PD, avvantaggiano la democrazia italiana. Noi non possiamo, e qui faccio un appello a tutti i cittadini e anche a coloro che per fortuna in questo Paese garantiscono la libertà di stampa e di informazione, ma come non si può vedere che un movimento di persone che riempie le piazze dal nord al sud nel nome dei valori costituzionali non sono un'immensa risorsa per tutti e per tutte. Ma facciamo l'esempio opposto. Pensiamo a piazze piene contro la Costituzione, contro la libertà, contro la democrazia e contro i valori che quella carta costituzionale garantisce certo a chi fa politica, ma guardate anche a chi fa il giornalista, anche a chi fa il libero professionista. E quindi questo movimento è una risorsa per tutti. E io dico non tiriamoli per la giacchetta, utilizziamoli, valorizziamo questo movimento per quello che è, ma finalmente perdiamo ore e ore e ore di discussione laceranti sugli stadi violenti, le piazze violenti, il ritorno dell'estremismo, l'odio nei confronti del diverso. Poi quando le piazze si riempiono di popolo, donne, uomini, giovani che puntano a un'altra scala di valori positiva, a volte, ovviamente non è questa la situazione, quasi a qualcuno gli dispiace e gli dispiace dire oh, finalmente l'Italia democratica è tornata in piazza. Ma questo non è una cosa positiva solo per chi la pensa come la penso io, ovviamente. Ma io mi auguro, almeno, mi auguro che questo sia una buona notizia anche per chi è di un'altra parte politica o di un'altra parte. Segretario, vedremo domenica, è evidente, l'ha detto anche Santori, se non si vince è una mancanza di riconoscimento del nostro peso. Ma lei ha detto il governo comunque non cade. Ci dice, visto che non ha senso tirare a campare, una linea rossa, una cosa che lei poi dal 27 chiederà agli alleati, chiederà al Presidente Conte, vi vedrete, ci saranno i conclave, tutte queste belle cose, ma insomma, cosa per Nicola Zingaretti sarà imprescindibile per far funzionare il governo? Beh, innanzitutto, innanzitutto non dimentichiamoci mai che 72 ore fa è accaduta una cosa enorme. Si sono tagliate le tasse su 16 milioni di stipendi degli italiani che avranno più soldi in busta paga. Ed è un elemento di grande giustizia sociale, di inversione di tendenza, si parla di 100 euro di più al mese e io credo che l'obiettivo di questo governo ora sia insistere su due punti importanti. Crescita, che vuol dire investire, sbloccare i miliardi per riaprire cantieri, soprattutto green e verdi. Noi abbiamo proposto, ad esempio, un grande piano per l'efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici, che vuol dire scuole, ospedali, caserme, comuni, luoghi pubblici dove si rifanno i pavimenti, le pareti, gli infissi, l'illuminazione e quindi si aprono cantieri. Migliora la qualità della vita in questi luoghi e si produce meno CO2 e si crea lavoro. E secondo, ovviamente, si continui su investimenti che puntano una maggiore riduzione delle disuguaglianze in questo Paese, che vuol dire anche, ad esempio, investire nei piccoli comuni, riportare servizi. Ma queste due anime devono andare insieme. nuovo sviluppo e ridistribuzione della ricchezza prodotta. Ci permetta una domanda così giocosa su Sanremo, che è alle porte, caro Zingaretti. Allora, lei tifa per Tosca, Rita Pavone o Chile Lauro? Prima fatemi sentire le canzoni, perché altrimenti sarei fazioso a prescindere. Ma le piace il cast? Le piace il cast? Le piace il cast? Come scusi? Le piace il cast? Sì, ma tutti si giugliano dalle proprie performance e non bisogna avere pregiudizi su nessuno, perché se ci mettiamo davanti alla televisione, come davanti a un politico, pensando prima che apra bocca, che è già sbagliato, facciamo un errore che poi ci rende sempre un po' superficiali. Aspettiamo le canzoni, aspettiamo le canzoni, facciamo così. Grazie davvero. Ci risentiamo dopo. Grazie al segretario del PD, a presto, buon lavoro.